C'è un accordo tra giunti e le ramadani, il ramadani sta cercando delle opportunità per chiesa in modo tale che poi quando si incontreranno porterà eventuali offerte sul costo del cartellino o se non ci saranno offerte convincenti su quanto lui vorrà prendere per rinnovare. Però lo considero abbastanza fuori dalla Juve, non totalmente fuori. Quando una società ti dice alla gente fai pure, trova delle soluzioni, poi portercele e parliamone vuol dire che è tutt'altro che incedibile. E forse un po' anche perché non è considerato un giocatore così tatticamente evoluto o duttile per fare un certo tipo di calcio diverso che non siano solo degli strappi. Ma io penso che faccia bene anche a chiesa cambiare aria. Mi sembra che la sua storia da Juventus sia esaurita. Un giocatore che ha avuto la storia delle ultime tre stagioni in un club, che già guadagna tantissimo e immagina di dover guadagnare di più, secondo me ha anche un attimino perso il filo di quello che è la realtà e il suo valore. No, ma in grato no. Non c'entra niente. No, 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 insomma ha una valutazione di se stesso che secondo me è un po' poco aderente alla realtà.